Pochi sanno forse che Don Sturzo fu anche un precursore nel capire il fenomeno mafioso. D'altra parte da siciliano non poteva non conoscere la mafia, ma Sturzo rispetto ad altri autorevoli siciliani del tempo ha il coraggio di chiamare la mafia per nome, di scrivere nel 1900 un articolo contro la mafia e soprattutto di mandare, di allestire un'opera teatrale per parlare al popolo della mafia avendo già compreso che se la mafia non si conosce e non la si capisce non la si può combattere e che conoscere la mafia non è un tema da specialisti ma deve essere un patrimonio di un intero popolo. Tra l'altro questo immaginare un'opera teatrale va nel senso anche di far conoscere la mafia per esempio ai più giovani che oggi più volte abbiamo posti in essere nello stato contemporaneo. Sì, noi se pensiamo al cosiddetto movimento civile antimafia sappiamo quanto sono stati capaci di richiamare l'intera comunità alla presenza e alla pericolosità dei mafia penso al lavoro fatti nelle scuole, penso alle opere teatrali, penso ai libri che sono stati scritti tuttavia ancora la mafia come fenomeno in sé è conosciuta da degli specialisti dobbiamo insegnarla nelle scuole, deve essere scritta nei libri di storia va riletta la storia italiana alla luce dell'influenza che la mafia ha avuto sulla storia del nostro paese. Sturzo capì che non solo di Lupara si uccide ma soprattutto nel dopoguerra intuì che la mafia era pronta a sbarcare al nord, fatto ora conclamato ed evidente. Esatto, la mafia è in Sicilia ma ha la testa a Roma e quindi il legame tra mafia e politica che la protegge che oggi serve per essere servita domani e la mafia che non sta nelle zone arretrate del paese se sta nelle zone arretrate è per sfruttarle ma che investe nelle zone evolute anche in Sicilia era nella conca d'oro dove c'erano tante arance e quindi poi come dice Sturzo si sposterà al nord Italia e varcherà i confini e così è successo e lo fa praticando il metodo della corruzione perché spesso non ha più neanche bisogno di intimidire e di usare la violenza perché trova purtroppo nella società compiacenza e collaborazione.